Sì, domani per la prima volta presentiamo alla città l'associazione culturale Circolo Pertini, un'associazione culturale nata in queste ultime settimane che ha un compito, una volontà di aprire diversamente da quello che sta accadendo una serie di riflessioni dal punto di vista politico tra tutti coloro che vogliono comprendere i fenomeni che attraversano il nostro tempo. Questo incontro di domani che vede la presenza di Diego Fusaro, un filosofo molto conosciuto al pubblico televisivo per le sue presenze continue nelle reti nazionali, tratterà un argomento che è il Mediterraneo tra immigrazione e globalizzazione. È un tema attuale, ma la lettura che noi intendiamo dare è quella di declinare questa realtà secondo un indice che non cade nella lettura costante a cui assistiamo, perché i temi riguardano certamente l'accoglienza, ma riguardano anche un processo che sta dietro questa realtà che si manifesta con tanta forza e che a nostro avviso dovrebbe trovare delle risposte da un punto di vista politico diversamente articolate. Questa diversa articolazione è dettata anche dal fatto che il contesto economico, sociale e anche quello delle relazioni su cui si fondano i rapporti tra le persone non possono essere esasperati da un punto di vista di lettura esclusivo del bisogno, però è anche vero che vanno comprese le ragioni che stanno all'interno di questo contesto, cioè quello di definire regole che non sono solo comportamenti a rispetto dei luoghi dove uno si approccia. Sono anche il tentativo che deve esistere di integrarsi profondamente all'interno delle singole realtà, come normalmente succede laddove si apre le porte di casa a chi in questa dimensione per la prima volta si presenta. Il tema di questo Paese è quello di far rinascere una coscienza civile, una coscienza politica che abbia all'interno di un percorso dei valori del socialismo. Quindi domani alle ore 18 alla biblioteca Memo nella sala Ipogea.